Sì, diciamo con la palla è uscita veramente di poco e sarebbe stato tutto il gol della matematica però diciamo che il risultato è abbastanza giusto perché al primo tempo loro ci hanno messo parecchie difficoltà la bravura nostra credo che sia stata quella di giocare un grandissimo secondo tempo dove abbiamo ripreso subito il risultato e abbiamo avuto anche altre occasioni per andare in vantaggio Sotto la gestione di Pilon Leonardo di Pescara ha perso una sola partita a Vercelli tra l'altro giocando in dieci uomini per oltre 80 minuti questo allenatore ha cambiato il volto di questa squadra, diceva qualche istante fa il tuo compagno di squadra Luca Valzania è venuto il mister e ci ha restituito serenità, era soprattutto una questione di testa allora? Ha saputo toccare le corde giuste secondo me, soprattutto perché è già il secondo risultato dopo Bari che noi dopo un primo tempo così lo riprendiamo e secondo me questi sono grossi segnali perché in partite così delicate andare sotto e riuscire a riprendere per due volte così il risultato vuol dire che la squadra è viva e lui ci ha dato tanto sotto questo punto di vista Io riprendo la stessa cosa che ha detto Valzania, so che tu non ci puoi dire uguale perché Valzania ha detto o torno all'Atalanta di cui sono proprietario o resto a Pescara tu o gioco alla Juve forse non lo puoi dire, però giochi a Pescara Sì perché ho un altro anno di prestito col Pescara e l'ho voluto fortemente sì anch'io ho questo prestito di 18 mesi quindi ripartirò qui Ora c'è questa gara con l'Ascoli sabato prossimo, l'ultima gara casalinga della stagione è la gara che per forza di cose dovrà regalare la salvezza a questa gara una partita importante, una sorta di derby, una partita a cui i tifosi tengono in maniera particolare Sì sì, forse cade a pennello perché è una partita come hai detto tu importante per i tifosi ed è la partita che veramente ci può dare la matematica quindi forse cade il momento giusto e ci prepareremo benissimo in settimana per affrontarlo Grazie a tutti